Ciao a tutti amici di Vanilla, mi chiedo scusa ma ho un po' di raffreddore, spero si capisca bene lo stesso. L'anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma cade il 16 ottobre, un ricordo ormai lontano del 1943, quando fra le 5.30 e le 16 vennero arrestati e poi deportati 1022 ebrei, soprattutto anziani, donne e bambini. Tornarono solo in 16, 15 uomini e una donna. Nei mesi seguenti furono arrestati altri 747 ebrei, buona parte di questi erano gli uomini giovani che erano riusciti a scappare al primo rastrellamento. A Roma risultavano abitare più o meno 13.000 persone di religione ebraica, circa l'83% di loro, si salvò nascondendosi in campagna o da persone di buon cuore e di gran coraggio, alcuni perfino in case di fascisti che non condividevano le persecuzioni ebraiche, altri si rifugiarono in chiese e conventi. Alcuni si erano uniti alla resistenza. È curioso notare come venissero sempre aiutati senza compenso dai civili, mentre a quelli ospitati in strutture religiose venisse spesso chiesto un pagamento, come dichiarato dai superstiti. Rispetto ai correligionari europei, gli ebrei e romani erano relativamente tranquilli, avendo versato circa 50 chili d'oro per la loro salvezza, come d'accordi del settembre del 1943 fra Herbert Kappler, comandante della Gestapo, dell'SD e della SIPO, Servizio di Sicurezza e Polizia di Sicurezza di Roma, e il presidente della comunità israelitica Ugo Foa. L'oro fu spedito in Germania a Ernst Kaltenbrunner, successore di Heydrich, a capo dell'ufficio centrale per la sicurezza del Reich, che non aveva alcuna intenzione di risparmiare gli ebrei. La cassa, con i 50,3 chilogrammi d'oro, fu poi ritrovata intatta nel suo ufficio. Il 14 ottobre i tedeschi avevano sequestrato i documenti del Collegio Rabbinico di Roma, e tra questi si trovavano i nomi e gli indirizzi degli ebrei romani, e fu quindi gioco facile scovarli e arrestarli due giorni dopo approfittando del sabato ebraico, giorno di festa, architettando un'incursione quando erano ancora tutti a dormire. Il 15 ottobre Mussolini aveva ricevuto la visita di Karl Wolf, comandante dell'SS in Italia, e Friedrich Moellhausen, console generale del Reich, accompagnati da Guido Buffarini Guidi, ministro dell'interno dell'RSI. Lo scopo dell'incontro non è noto, ma si può presumere che fosse per avvisarlo dell'intervento del giorno seguente a Roma, o che comunque Mussolini ne sia stato preventivamente informato. Quindi, la domanda che ci viene spontanea adesso è, il dittatore sapeva? Probabilmente sì. Era d'accordo? Probabilmente no. Avrebbe potuto fare qualcosa? Probabilmente o quasi sicuramente no. Qualunque fosse il suo parere, non aveva modo di opporsi a una simile decisione. Si può ritenere che ne sia stato informato in anticipo per cortesia, e niente di più. Il 16 ottobre iniziò la retata su ordine di Kapler e di Theodor Dannecher, responsabile della soluzione ebraica a Roma nel 1943. Fu come sempre questione di fortuna. Non c'erano italiani fra i militari che dovevano effettuare il rastrellamento poiché venivano giudicati inaffidabili, ma anche fra i tedeschi c'erano quelli ligi alle liste che arrestavano scrupolosamente solo chi era segnato, e c'erano gli zelanti che portavano via tutti indistintamente. Il 18 ottobre partì da Roma il trenno con i 1022 ebrei arrestati durante l'incursione con destinazione a Auschwitz. Il 16 ottobre il papa, Pio XII, era stato informato della retata. Dopo aver contattato l'ambasciazione, tedesco, e averlo pregato di intervenire in favore di quei poveretti per evitare che il Vaticano dovesse schierarsi e aver chiesto la liberazione degli ebrei battezzati, che non venne comunque concessa, il Vaticano si limitò a chiedere di non effettuare ulteriori arresti per evitare che il papa dovesse prendere posizione personalmente. Il 25 ottobre Pio XII chiese ai religiosi di accogliere gli ebrei e di proteggerli. I chierici naturalmente nascosero gli ebrei, come del resto alcuni di loro avevano già fatto dietro un'iniziativa personale, ma il treno del 18 ottobre era già arrivato ad Auschwitz il 22 e probabilmente buona parte dei 1022 ebrei era già polvere nel vento. Nonostante le richieste del papa, gli arresti continuarono, senza interventi della Santa Sede, se arrestare gli ebrei durante l'incursione fu quasi un gioco, per l'arresto degli altri 747 servirono degli aiutini. I ferventi fascisti o nazisti denunciarono per ideologia, ma c'è chi fece di peggio e denunciò per ricompensa. Portieri che denunciarono gli abitanti del palazzo, chi denunciò i vicini, i conoscenti, perfino ex fidanzati o fidanzate che denunciarono i loro ex. C'è chi denunciò per odio personale, per risentimento o per vendicarsi di uno sgarbo, ma la maggior parte lo fece per tornaconto economico. Tra i delatori ci fu anche una donna ebrea celeste di Porto, detta la stella di Piazza Giudia per la sua bellezza. Oggi Piazza Giudia si chiama Piazza delle Cinque Scuole. Molto chiacchierata per il suo comportamento spregiudicato per l'epoca, dopo l'8 settembre del 43 per proteggere la sua vita e per denaro, collaborò attivamente con i tedeschi nella segnalazione degli ebrei. Le venne dato il soprannome di Pantera Nera. Nonostante avesse solo 18 anni, a lei si deve l'arresto dei 26 ebrei, dei quali conosceva i nascondigli, fra i quali si annoverano anche suo cugino e suo cognato, ma anche Lazzaro Anticoli, un pugile ebreo che, durante la detenzione nella cella 306 di regina Celi, scrisse sul muro, sono Anticoli Lazzaro, detto Bucefalo, pugilatore. Se non arrivedo la famiglia mia, è colpa di quella venduta di celeste, a rivendicatemi. Nelle retate finì anche il fratello di Celeste, che lei riscattò, facendolo sostituire proprio da Anticoli nelle liste degli ostaggi da uccidere nelle fosse ardeatine. Scappata da Roma dopo l'arrivo degli alleati per timore della vendetta degli ebrei romani, si rifugiò a Napoli, a cui venne riconosciuta. I soldati statunitensi riuscirono a salvarla dal linciaggio, ma venne arrestata e condannata a 12 anni per le sue attività di collaborazionismo. Ne scontò alla fine soltanto 7, grazie all'amnistia. Quello dei delatori non era un problema solo romano. In tutta Italia e Europa ci furono persone che vendettero i nomi degli ebrei all'SS. Furono spesso civili senza scrupoli, ma in Italia nacquero vere e proprie bande specializzate nella caccia all'ebreo, alcune per ideologia, altre soltanto per motivi economici. Un uomo ebreo valeva 5.000 lire, una donna 3.000, un bambino 1.500, il listino era stato stabilito da Kappler, e non esitavano a torturare ebrei e membri della Resistenza per ottenere informazioni e per poterne catturare altri. La più famosa fu la banda Koch di via Tasso, Roma, che poi si spostò a Milano, ma ce ne furono molte altre. Fino all'8 settembre gli ebrei venivano segnalati per preservare la razza, ma non rischiavano la vita e le leggi razziali italiane del 1938 non contemplavano l'eliminazione, limitavano solo i diritti civili ed è per questo che il numero di vittime totali italiane fu molto limitato rispetto a quello di altri paesi europei. Nel 1942 Himmler aveva prospettato a Mussolini la soluzione finale contro il popolo ebraico. Il dittatore italiano aveva fatto orecchie da mercante e non era successo nulla in Italia, ma dopo l'8 settembre e con la Repubblica Sociale, in teoria fascista ma in pratica in mano ai tedeschi, la situazione cambiò radicalmente e con il Manifesto di Verona, che dichiarava gli ebrei stranieri e nemici, da ottobre-novembre del 1943, iniziarono le deportazioni in base alle leggi razziali del Reich. Bisogna sfatare almeno in parte il mito di italiani brava gente, prendendo a prestito il titolo del film del 1964 di Giuseppe De Santis. Erano persone come le altre, in maggioranza non antisemiti, ma la nota furbizia italiana, non pregio ma difetto, arrivava a livelli di crudeltà quasi senza pari. Ci furono delatori che intascarono tre volte un compenso per la stessa persona. Dai tedeschi alla prima denuncia, dalla famiglia della vittima, sfruttando la buona fede e la disperazione, sostenendo di poter liberare il loro caro e intascando oro e denaro e dopo averlo fatto fuggire e nascondere, lo denunciavano nuovamente ai tedeschi per un'altra ricompensa. Alcuni si spacciarono per avvocati, sostenendo di avere agganci con i tedeschi e poter dietro pagamento proteggere e far fuggire i familiari degli arrestati per sapere dove si nascondevano o addirittura spacciandosi per ebrei con un congiunto moribondo e arrivare a farsi indicare dove era nascosto un rabbino per stanarlo con la scusa dell'ultima unzione. Non c'è da stupirsi che i delatori riuscissero nel loro intento. Erano spesso conosciuti dalle vittime o avevano conoscenze comuni e in quel tempo la paura e la disperazione abbassavano il livello di guarda degli ebrei. Dopo la fine della guerra e dopo che i campi di sterminio furono mostrati al mondo in tutta la loro infernale disumanità, la comunità ebraica cominciò a raccogliere dati e informazioni dai superstiti e cominciarono ad affiorare le figure dei delatori con tutto l'orrore del caso. Gli elenchi relative alla città di Roma sono consultabili presso gli uffici della comunità ebraica romana, ma solo dagli studiosi. Ci sono nomi e cognomi di quelli che poterono essere identificati, alcuni furono giudicati, altri purtroppo no, ma se ne ricava un quadro sfaccettato rispetto a quello che la storiografia mediatica postbellica c'è sempre riportato e che non ci fa onore. Gli italiani non salvavano più ebrei di quanto non fecero altri popoli, dai belgi agli olandesi ai tedeschi o ai polacchi. Ci comportammo come tutti gli altri, nonostante per narcisismo ci piace tanto considerarci brava gente. Se siete restati con me fino alla fine e non siete iscritti, vi chiedo di cliccare il tasto iscriviti e sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale. Non costa nulla e ci consentite di raccontare queste storie, narrate spesso in una luce diversa da come davvero si svolsero i fatti, a tantissime persone che forse non hanno la possibilità di sentirle. Grazie mille a tutti.